Acciuffati dalle volanti del commissariato di Fano, praticamente con le mani nel sacco, i topi d'auto che si aggiravano con fare sospetto e torce elettriche alla mano la notte scorsa nel quartiere di Santorso, guardando all'interno delle auto parcheggiate. Quando sono stati fermati dai poliziotti avevano ancora addosso la refurtiva di un'auto che avevano appena saccheggiato. Tutto avuto inizio con una segnalazione lanciata nella pagina del nostro telegiornale dedicata ai reporter di strada. Simone dice da attento osservatore, scrivendo agli oltre 5.000 iscritti, attenzione, zona Santorso, via Bellandra, due ragazzi di colore in bicicletta contro mano guardano dentro le macchine parcheggiate. Atteggiamento inequivocabile che ha indotto lo stesso segnalatore a chiamare il 113 che nella serata di ieri ha denunciato in stato di libertà per furto due minorenni stranieri residenti a Fano. Durante i controlli gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, hanno setacciato le zone del Vallato e di Santorso, dove nei giorni precedenti si erano verificati diversi furti. In via Bellandra, verso le 22.30, i poliziotti hanno notato effettivamente i due giovani annunciati nel post sulla pagina di Reporter, che si accostavano furtivamente alle autovetture, scrutando all'interno degli abitacoli, mediante appunto l'utilizzo di torce elettriche. I due sospetti, i due diciassettenni, sono stati immediatamente bloccati e sottoposti a controllo. Avevano arnesi da scasso e un borsello da donna contenente documenti e la somma di 55 euro in contanti. Il risultato può essere stato asportato il tutto poco prima da un'utilitaria parcheggiata a via Magalotti, di proprietà di una donna che era in visita alla madre che abita nella via. Nel corso della stessa perquisizione, su uno dei due minorenni, sono saltate fuori alcune dosi di hashish. Entrambi i ragazzi, una volta accompagnati in commissariato e affidati ai rispettivi genitori, sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria minorile per il reato di furto, mentre uno dei due veniva anche segnalato alla locale prefettura quale assuntore di stupefacenti. Grazie per la visione!